Il Rimini a Pia Castagnano viene colto in castagna, la pianese avversaria di misura ma che in casa si fa valere. 4-0 al Sansepolcro, poi fuori casa di misura sul campo della Correggese, K.O. nel turno infrasettimanale col Fiorenzola. Il Rimini prova a fare la voce grosso ma di mezzo c'è il Golfo con lo bianconero attaccante di Natura che fa coppia con l'ex Sant'Arcangelo e Romagna Centro Daniele Ferri. Il Rimini rinuncia a Simoncelli, out e tempi di recupero in corso, mentre Muccioli osa Cicario e vice Buonaventura più goiebre dal primo minuto. Pronte via e Golfo viene fermato in posizione di offside, sull'alto versante Guillebre mette l'acceleratore in Isca Buonaventura che è bravo ad accentrarsi ma spara centralmente. La pianese tiene testa a Rimini e ci prova con Nella, ma Scotti blocca senza problemi. Prima che il portierone sia chiamata la solita parata salva risultato proprio sul Golfo che era già pronto ad esultare. Ci prendono gusti bianconeri che tergiversano con Catanese e parla a cercare Nella che deposita la sfera a lato. L'ultima occasione del primo tempo arriva dal piede di Daniele Ferri, bravo nella protezione del pallone, un po' meno, in fatto di precisione. Sfera alta. Nella ripresa bianconeri resistenti con Simeoni che, sul suggerimento di Golfo, non inquadri il bersaglio. Ma quando la pianese si prende gusto, il Rimini punge facendo davvero male. Scambio di Guillebe che nell'intenzione vorrebbe servire Cicarevic. All'intento viene tramutato in realtà quando Mariese e Capone si chiamano la vicenda. La prendo io, la prendi tu, la prende Cicarevic. Tiro e gol e tra i due litiganti, il terzo gode. Terzo cento in stagione per l'Asso Montenegrino. La reazione della pianese è concreta nell'immediato. Nella chiama la rispinta a Scotti, poi travolgente nella sua incursione l'attaccante Golfo. Mezza difesa portata a spasso, tiro sporco che divine assist vincente per Daniele Ferri, che addomestica la sfera e la scaraventa con rabbia e precisione alla sinistra di Scotti. 1-1 e gioia meritata per i padroni di casa, che tuttavia non si accontentano. 4 minuti più tardi dal cross di Golfo, difesa biancorossa a guardare Capone, che di testa sul secondo palo insacca decretando il sorpasso. 2-1 per gli uomini di Masi. E Rimini dov'è? Prima Arlotti con un gran tiro chiama l'attenzione Palumbo, poi dalla panchina Muccio gli inserisce Ambrosini da Dario, trazione offensiva e guai a cambiare pulsante. Squadra sbilanciata e Nella fa quel che vuole, metà centro tra persone sul quale né Ferri né Golfo arrivano all'appuntamento con i gol. Ma Golfo è indemoniato, alto contropiede, destro a giro e palla fuori di un nulla. Dal possibile 3-1 al 2-2. Buonaventura fa da sponda per Abbrosini, che in corsa calcia a botta sicura, trovandolo l'angolo vincente alla destra di Palumbo. 2-2 ed esplosione della panchina biancorossa. Due note, le diciamo di cuore. Ottima pianese, a tratti irresistibile con Golfo e Nella due giocatori di piacevole veduta. Ma se questo Rimini concede così tanto, ti può andare bene una volta, due, alla terza paghi. Occhio Muccioli, perché qui Gioco se ne vede poco, a per Castagnai oggi ce la ridono.